Pioggia secchiata e ancora neve e vento. Un mercoledì, quello odierno, che non soltanto ci ha fatto assaggiare meteo e clima che ci accompagneranno almeno fino a Pasquetta, ma ha riservato Galeottolo Scirocco. Anche fenomeni singolari con l'alta valtellina in balia del vento africano che ha portato la pioggia ai 1816 metri di Livigno, mentre la neve è scesa abbondante sia in Valle Spluga che in Bassavalle fino ai 1400 metri di Pescegallo. Domani i fiocchi sono attesi addirittura sino a 1000-1200 metri. A causa della pioggia battente stamane lungo la strada provinciale 10 dei Cecco orientale nei pressi del chilometro 11 più 700 in comune di Civo si è verificata una caduta massi. La strada è stata chiusa al traffico veicolare pedonale fino a verifica del sussistere delle necessarie condizioni di sicurezza. Insomma, se per gli amanti dello sci la nuova neve scesa è quella attesa nei prossimi giorni non fa che assicurare ancora qualche bella sciata, il consiglio è comunque quello di evitare il fuoripista perché il rischio, sia per domani che dopo, è classificato sia per le retiche che per le robbie dal centro nivo meteo Arpa Lombardia come marcato. In terreno alpino formazione di nuovi estesi lastroni soffici staccabili con debole sovraccarico generando valanghe di grandi dimensioni, si legge nel bollettino diramato oggi. Attività valanghiva spontanea dai versanti più ripidi a qualsiasi esposizione con distacchi anche di grandi dimensioni. Prepariamoci dunque a una Pasqua più autunnale che primaverile, da rimandare senz'altro caccia alle uova nel verde e picnic, stesso discorso per il cambio stagione negli armadi.